Bella a tutti ragazzi siamo quelli della porta accanto, io sono Schiara e oggi siamo su FIFA 15 Faremo un piccolo pack opening molto veloce Iniziamo subito, ho sbagliato Ok, andiamo subito sui pacchetti Non ci stanno pacchetti speciali però apriamo quelli da 7500 che fanno bene lo stesso Iniziamo subito col primo Oh, Dembélé, fatto padre Buono, buono no Vediamo subito la lista trasferente 2% tiro così La grande La ritorniamo La maniera La vita del Galdis Andiamo col secondo pacchetto Vediamo se ci dice più fortuna stavolta Dai Alaba Dai Alaba Uh Buono Alberto Moreno Quanto valgono però Buono Buono Abbiamo tutta la lista di trasferimenti Intanto abbiamo trovato un altro stile intesa Al falco Oddio Scartiamo tutto Vediamo col terzo pacchetto Dai Alaba Magari ci dice più fortuna stavolta Non è nulla Lo falso C'è ma è nulla Ma se secondo me questo è un bar Andiamo a lista di trasferimenti Tutto adesso qua scartiamo Facciamo mille gradi Magari ci viene anche un altro pacchetto Da 7.5 Dai Alaba Dai Alaba Ci sto credendo Ci sto credendo Io no adesso Questo ci serve a noi Va bene Contratti Contratti Cioè Non trovo Guarda Gli 11 o 2 oggetti L'arriano I contratti Ok Questa è nulla Gli ultimi tre pacchetti Tutto sarà un pacco di ammortollorio Dico il capello Non l'ho scelto Ok 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 Gli scartiamo Vabbè Andiamo con l'ultimo Anzi Penultimo pacchetto Con l'al vors Questa La ultimo pacchetto bubbi solo bubbi solo bubbi solo bubbi solo che schifo che schifo non è che schifo che schifo questo ci ho messo la fine l'ho scartato perchè è quello dove non piove non vuole nessuno niente ragazzi il video è finito come al solito l'iei non si è dimostrata all'altezza e abbiamo perso altri mille fifa points che tristezza da quelli della porta accanto è tutto ci vediamo in un prossimo video bella